Maltempo violento. La perturbazione atlantica si scatena sul Vicentino. Rovesci intensi con forti raffiche di vento. Dalle 9 di mercoledì sera fino a tutt'oggi i temporali investono la provincia di Vicenza. Anche nella serata di ieri il maltempo è stato particolarmente intenso, con raffiche di vento e pioggia che hanno abbattuto alcuni alberi caduti sulla strada. Per rimuoverli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, entrati in azione a Brendola, in via Cavour e in via Madonna dei Prati. A Sarego i pompieri sono intervenuti per liberare la strada in via Meledo Alto, mentre a 90 Vicentina una squadra ha ripristinato la viabilità in via Masenello. A Vicenza il Comune ha allertato la protezione civile, che segue attentamente l'evolversi della situazione. Altri temporali, ma con una conformazione diversa, si abbattono sul Vicentino anche nel tardo pomeriggio e in serata, fino alla notte. I temporali sono meno raggruppati e più sparsi, ma risultano ancora insidiosi, quindi dove colpiranno potranno ancora portare grossi disagi e anche eventualmente danni, perché la conformazione che hanno rispetto a ciò che trovano il suo territorio potrebbe causare danni e altri problemi. Passata la prima linea di instabilità, anche oggi i temporali hanno segnato la giornata, con temperature in netto calo rispetto all'afa dei giorni scorsi. Fino a domani mattina i cittadini sono invitati ad attivarsi per ridurre i danni che potrebbero generarsi, evitando di trovarsi in zone esposte durante i temporali, ricoverando i propri animali e mettendo al sicuro i propri beni, come le automobili, le tende da sole e tutte le suppellettili che possano essere portate via dal vento o danneggiate dalla grandine. Da venerdì pomeriggio c'è stato pericolo.